CRO, il token della piattaforma di Crypto.com, ci potrà rendere ricchi in futuro. Beh ragazzi, oggi ne parliamo e discutiamo insieme. Ciao campione o campionessa, sono Stefano Gabenelli, alias il Marchese del Crypto. Benvenuto o benvenuta nel canale dove si parla solo pane al pane e vino al vino. Andiamo subito a scoprirlo. Io direi di iniziare innanzitutto con il grafico in modo tale che capiamo il momento nel quale ci troviamo. Questo è il grafico daily, se facciamo uno zoom out, vediamo quanto siamo scesi dal top, siamo arrivati fino a perdere il 94%. Ora negli ultimi giorni abbiamo recuperato un qualcosa, ma in questo momento stiamo perdendo quasi un 92% rispetto al suo precedente all time high. In questo momento il token CRO si trova in una zona che ci fa da resistenza, ma in questo momento siamo nella parte bassa del supporto e di questa area. Sarebbe cosa buona per vedere almeno una possibile ripartenza di CRO, vedere rompere al rialzo e se non altro riniziare a galleggiare da questa parte superiore, in modo tale che questa zona poi da resistenza si trasformi in un supporto. Se andiamo a vedere il grafico mensile abbiamo una panoramica molto più ampia e come vediamo a livello di prezzo, appunto visto che ha perso tanto, potrebbe essere un'ottima buy zone. Questi ragazzi non sono consigli finanziari, sono solo opinioni personali, ma ad ogni modo, ve lo dissi già in un qualche video passato, è sicuramente un'ottima zona di accumulo per chi crede nel token CRO e per chi crede possa avere un futuro. Ora, visto che siamo in bear market, se stai guardando questo video, penso e credo che tu conosca perfettamente il funzionamento del token CRO. Qualora però tu non conosca bene questo token, ti lascio qua sopra un video dove ti do una spiegazione generale di come funziona questa criptovaluta. Quindi in quel caso il mio consiglio è di vederti prima quel video e prima di passare a questo. Adesso prima di passare a una più approfondita analisi andiamo un attimino a capire in che in questo momento cosa sta succedendo sull'ecosistema di CRO e la Cronos Chain. In questo momento è uscito un aggiornamento chiamato Galileo che porterà la blockchain, che ha portato la blockchain dalla versione beta a una versione stabile e definitiva. probabilmente saranno altri aggiornamenti in futuro. Quindi questo ha sicuramente fatto sì che il prezzo in questi ultimi giorni, come abbiamo visto con questa candela verde, sia salito di parecchio. Infatti ha guadagnato quasi un 45%. Questo aggiornamento ha portato e porterà alcune migliorie, ad esempio ridurrà i tempi di transazione sulla blockchain di Cronos, ridurrà i costi per effettuare appunto la transazione stessa, ci sarà uno spazio quindi ottimizzato per i nodi, perché sapete che anche uno dei problemi di alcune blockchain è proprio lo spazio per gestire tutta la blockchain, quindi ci sarà questa riduzione. Ed in più questo aggiornamento migliora l'interoperabilità con le altre blockchain, ed in un virtual machine, che anche se già esisteva, ma ci saranno delle migliorie, quindi grazie a queste migliorie ne beneficerà sia tutto l'ecosistema di Cosmos, perché la Cronos chain è realizzata su Cosmos, che tutte quelle blockchain ed in un virtual machine compatibili. Questo aggiornamento, come abbiamo visto, ha creato un forte impulso di alzista, nonostante ci sono stati delle notizie non proprio positive, o perlomeno non apparentemente tali. Infatti l'11 gennaio la società aveva annunciato che avrebbe delistato Tether USDT per i cittadini canadesi, ed in più ha annunciato pochi giorni dopo, quindi due giorni dopo questo evento, che avrebbe licenziato il 20% della sua forza lavoro, questo per rendere l'azienda più sostenibile. Ma l'aspetto più importante che mi fa pensare che Crypto.com sia un'azienda seria e sia nata per restare, per essere fra i leader del mercato delle criptovalute, è una notizia risalente al 15 ottobre del 2020, che probabilmente, non so se vi ricordate, ad ogni modo Crypto.com ha tagliato i premi per lo staking, in pratica per chi aveva lo staking sulla piattaforma, ha ridotto le reward da staking. Questo è stato accolto in maniera impopolare, questo era il 15 ottobre del 2020, infatti se andiamo a vedere un attimino il prezzo di ottobre 2020, guardate qui che candele ci sono state. E questo mi fa riflettere molto perché, anche se stavamo iniziando un bull market, un bull market che sarebbe stato importante, Crypto.com ha deciso di non pompare troppo il proprio token, ma di fare le cose piano piano. Infatti in quel periodo, mentre molte criptovalute crescevano, il token di CRO perdeva valore. Ma questo ragazzi, se conoscete i procedimenti o alcuni processi di alcune grandi aziende, ci sono dei step, ci sono dei step di acquisizione, di step di marketing, di step di consolidamento e di step anche di sostenibilità, perché evidentemente in quel momento e nei momenti precedenti era opportuno aumentare la customer base, quindi fare delle offerte aggressive per portare capitali all'interno. Successivamente è anche importante rendersi sostenibile per il lungo periodo. E questo è quello che ha fatto Crypto.com. Molte altre aziende invece hanno battuto il ferro finché era caldo, ma poi abbiamo visto la fine che hanno fatto. E questo non è stato il solo annuncio che ha cercato di rendere Crypto.com maggiormente sostenibile, infatti con il tempo ne sono arrivati degli altri, dove ha tolto il cashback per le carte di credito, lo ha ridotto, poi lo ha rialzato. Ragazzi sappiate che quando fa questi tagli e poi dopo rialza lievemente per far contenta la community, è tutto studiato, non è una cosa campata per aria. Sono un'azienda seria e questo non finirò mai di ripeterlo. Poi tutto può succedere, infatti andiamo a vedere anche dei lati meno seri, o perlomeno che non sono così trasparenti. Ora per quanto riguarda la customer base, Crypto.com ha superato i 70 milioni di utenti, ma queste informazioni ragazzi prendetele con le pinze, perché in questo settore è davvero complicato reperire informazioni, e reperire informazioni attendibili. Questo è aggiornato al 2022, a novembre del 2022, mentre per quanto riguarda Binance sono riuscito a reperire solo questo dato del 2021, dove risultavano 120 milioni di utenti attivi, ma sia in un caso che nell'altro sono stati dei report rilasciati proprio dalle due aziende stesse. Questo purtroppo è uno dei lati oscuri del settore delle criptovalute, dove il tutto è lasciato un po' così alla carlona, se vogliamo dire. Ci dobbiamo fidare di alcuni dati, non abbiamo tutto sotto controllo. Ma ad ogni modo questo è quello che ci dicono loro, ma noi non ci fidiamo in ogni caso di questo, ed andiamo a approfondire anche un altro aspetto. Per quanto riguarda il token CRO, abbiamo visto, se lo ordiniamo per Market Cap, che dal suo top, dove aveva 22.51 billion, è arrivata in questo momento ad avere poco meno di 2 billion di capitalizzazione di mercato. Quindi ha avuto sì un calo importante, ma vediamo che allo stesso tempo ha potenzialmente un grosso margine di crescita. Paragonandolo al suo concorrente, se così vogliamo definirlo, il token BNB della piattaforma di Binance, è passato ad avere 104 billion, quindi pensate la differenza, in questo caso è pari a 5 volte tanto rispetto all'all time high per capitalizzazione di mercato del DCRO, e in questo momento si trova a poco al di sotto dei 50 billion. Quindi questa è una bella differenza. E in questo caso quindi non mi trovo perfettamente in accordo per quanto riguarda il discorso di utenti. C'è naturalmente da fare differenziazione fra utenti attivi ed utenti registrati, anche perché Crypto.com ha basato molto la sua campagna di marketing, non tanto sul trading, ma proprio sulla acquisizione di nuove persone, ma la maggior parte delle quali completamente inesperte di criptovalute che hanno magari solo aperto il conto corrente, non hanno mai depositato, non hanno mai fatto degli scambi. Questo dato ci viene confermato, anche perché se noi andiamo a vedere il volume di trading nelle ultime 24 ore, ad esempio, su Binance è pari a 16 miliardi, e qui sto parlando solo di spot, quindi non sto considerando il settore dei derivati, mentre per quanto riguarda Crypto.com bisogna scendere in 19esima posizione con 243 milioni di dollari di volume di transazioni. E quindi ragazzi capite bene la differenza fra utenti attivi ed utenti registrati. E anche a livello proprio di piattaforme, Binance punta molto di più sul trading, sull'acquisto e vendita di criptovaluta, Crypto.com punta di più all'usabilità, ma l'utente verso il quale si pone è un utente differente rispetto a quello che si rivolge Binance. Ma anche in questo caso non è tutto negativo, anzi, almeno devi vedere, è positivo, probabilmente i dati non sono attendibili e la customer base non è paragonabile, ma sicuramente c'è un ampio margine di crescita da parte di Crypto.com rispetto a Binance e al token BNB. Questo deriva dalla legge dei grandi numeri in finanza, la quale ci dice che è molto più semplice la crescita di aziende piccole rispetto alla riconferma di quanto fatto l'anno precedente piuttosto che il raddoppiare i volumi dell'anno successivo per aziende più grandi. E quindi questo, a livello di investimento, fa sì che Crypto.com sia naturalmente più rischioso, ma probabilmente potenzialmente più profittevole in futuro rispetto a quanto possa essere allo stato attuale BNB. Una cosa che mi è piaciuta, in parte sì, in parte meno, invece è stata che c'è stato un hack, ad esempio su Crypto.com il 20 gennaio del 2022, dove Chris Marzalek, il CEO di Crypto.com, ha riconosciuto che sono stati violati 400 account. Ad ogni modo Crypto.com ha restituito i fondi. E quindi come lato negativo c'è il fatto che sono usciti a violarlo, spero non dall'interno, l'aspetto positivo è che comunque sia sono stati restituiti i fondi. Una cosa che invece non mi è piaciuta di Crypto.com sono stati alcune movimentazioni sospette, come ad esempio l'errore di tanto tempo fa, che vi ricordate erano stati inviati 7-8 milioni di dollari in criptovalute ad una donna in Australia, per errore, cosa, per me lo dobbiamo vedere, assurda, e a quanto pare l'errore fatto in poche settimane fa, in fase di audit per quanto riguarda la proof of reserve da parte di Crypto.com, che ha inviato questi fondi verso un altro exchange per poi ritornare indietro. Ecco, e si sono giustificati dicendo che è stato un errore. Ragazzi, è vero che l'errore può succedere, ma quando si tratta di gestire grossi capitali in questo modo, mi fa un pochino dubitare dell'affidabilità. Un'altra cosa alla quale per stare attenzione, benché molto sottovalutata, è la causa fra Ripple e la SEC, quindi per capire se Ripple possa essere considerata una security, ma in quel caso rientrebbero una marea di criptovalute, figuriamoci degli utility token, in questo caso come possono essere BNB e come possono essere CRO, questo creerà un precedente, quindi a seconda di come si concluderà questa causa, ne capiremo di più, perché potrebbe, come detto, impattare queste criptovalute e soprattutto anche le cripto legate agli exchange. Eccoci arrivati adesso alle conclusioni finali e personali e quindi cerchiamo di capire insieme se CRO può essere la criptovaluta giusta che ci può far diventare ricchi in futuro. Allora, il primo aspetto che è emerso, per quanto mi riguarda, è che è un'azienda molto seria. È stata una delle poche in bull market a mettere dei limiti che hanno fatto sì che il prezzo ne risentisse a breve termine. Quindi anziché puntare su una mordi e fuggi, ha puntato molto su una lungimiranza. E questo è sintomo di azienda seria. E questo lo sto ripetendo da diverso tempo. Ciò non toglie che possa chiudere dall'oggi al domani, come abbiamo visto altre aziende che magari potevano sembrare serie, chiudere i battenti oppure aver fatto delle azioni malevole in modo intenzionale. Fino adesso Crypto.com non mi ha dato questa sensazione, ha superato brillantemente tutte le accuse che gli sono state fatte da parte di Sisi di Binance, ma come ho detto più volte, secondo me sparava un pochino così a caso, e quindi è riuscito a superare anche momenti di intenso stress. Per quanto riguarda, come detto il caso, XRP SEC è un problema, ma questo un po' per tutte le criptovalute, ma anche e soprattutto per queste degli exchange, che allora venissero considerati degli security, potremmo avere dei problemi seri. Per quanto riguarda il lato puramente speculativo e quindi di investimento, beh ragazzi, come si dice, chi non risica non rosica. Quindi io continuo a ripetere, in questo momento sono resto fiducioso anche per il token CRO, ma non aspettatevi un aumento dall'oggi al domani. Mi aspetto che potrebbe guadagnare valore con il tempo. È un token che sì potrebbe avere una sua utilità, tutto dipenderà dalla crescita dell'exchange Crypto.com e della sua Cronos Chain. A mio modo di vedere, se dovesse entrare ora e per una diversificazione del portafoglio, considerandolo come asset ad alto rischio, ma con altissimo potenziale, potrei valutare di acquistare CRO, perché davvero magari fra 4, 5 o 6 anni può togliere delle soddisfazioni. Con il rischio altrettanto che fra 4, 5 o 6 anni, o anche prima, potrebbe anche non esistere più. Questo va sempre tenuto a mente. Oltre a questo abbiamo visto la capitalizzazione di mercato, in questo momento è molto bassa, quindi ha tantissimo potenziale di crescita. Arrivare alla market cap, che è attualmente BNB in bear market, significherebbe fare più di un 20 per rispetto all'attuale prezzo, il che naturalmente potrebbe far gola a tanti. Quindi ragazzi, ci sono sia tantissimi rischi, ma sia tantissime possibilità. E Crypto.com potrebbe essere una criptovaluta che ci farà davvero contenti in un futuro. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere magari qua sotto nei commenti. E ragazzi, come al solito, mi servono i pollicioni all'insù se avete trovato utili questi contenuti. Condividetelo con i vostri amici, insomma fatelo girare ed iscrivetevi se non siete registrati. Ciao!